come promesso siamo su una bellissima barca dopo una bella dormita il mare è scaduto e siamo in compagnia dell'armatore di mario masi un carissimo amico e un altro amico carissimo federico vannozzi eccoci qui pronti per una pescata di traina d'altura sul litorale naziale grazie a tutti adesso incominciamo a metterci in pesca abbiamo preparato cinque canne mentre stavamo navigando incominciamo a mettere queste in acqua e poi prepareremo anche qualche altra canna nel frattempo incominciamo da una batimetrica di 150 metri che man mano che usciremo fuori ci porterà a 800 e quasi a 1000 metri ovviamente nelle prossime ore perché ci vuole un po di strada io direi mettiamo in moto la barca andiamo alla velocità giusta che dici sette nodi e mezzo otto perfetto ci mettiamo subito in pesca andiamo dai la canna più lunga quella che metteremo più distante dall'imbarcazione a circa 120 130 metri l'abbiamo armata con un bel cona montatura stiff rig con un amo singolo una collanina di birds piccoli sempre per richiamare i nostri amati predatori e un bird grande in testa adesso la molliamo più lunga la posizioneremo alta anche se non abbiamo il center rig con i portacanne posizionati qui molto alti riusciamo ottenere sempre un buon un buon risultato Mario è molto bella questa barca perché ha queste imbottiture tutto intorno al pozzetto che quando combatti ti consentono di tenere le ginocchia sempre piantate sulla murata senza farti male mi piace è un vero vincere è partita la canna più lontana rallenta stop devi andare a colpetti ok adesso faremo un po di pulizia è un bel pesce da com'è partito anche se sta a galla occhio non lo forzare occhio apri un po la frizione apri un po la frizione poco mario il leader dell'open blu filosofi del team open blu filosofi che cosa dice che pesce è secondo te ma io un bel pesce da come si piega 50 litri un bel pesce sicuramente ma io spero in uno strato spero più che altro ma comunque guarda siccome il combattimento l'ha fatto tutta a galla potrebbe essere una lunga questa è una buona zona di alla lunga la lunga dai viene da giù ok perfetto fa un passo indietro che bel pesce che bel pesce capitano comprimenti bravissimo 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 Grazie a tutti.